Solo in Unione Europea sono stati acquistati un miliardo e mezzo di dosi di vaccino, pagate non si sa quanto perché i documenti richiesti da parlamentari europei e non, da agenzie di stampa eccetera eccetera, sono stati tutti accuratamente nascosti. Allora guarda Renate come al solito ci fornisce sempre la documentazione di ogni cosa delle quali noi parliamo, perché lei fa l'avvocato serio, non è che dice io chiacchiero così, no, ogni volta che si dice una cosa documento eccolo qua. Allora io rivolgo i miei soldi, noi rivolgiamo i nostri soldi, tutti rivolgono i loro soldi e la loro dignità, noi li rivolgiamo, noi non vogliamo che voi date in galera, no, rivolgiamo i nostri soldi, vogliamo essere risarciti, che ci sia una sorta di pace, fate come vi pare, ma bisogna fare pace con gli italiani. Noi abbiamo rimesso, io lo ripeto, se noi non riusciamo a pagare una cosa, una tassa, una multa, un questo, un quell'altro, una imposizione, ci venite a togliere le mutande, va bene? Ci avete privato di danaro, libertà, con i soldi delle nostre tasse avete pagato miliardi di dosi inutili, di banchi a rotelle, di stronzate, cioè noi non vogliamo vendette particolari, rivolgiamo soltanto i nostri soldi, vogliamo la nostra dignità, vogliamo che venga cancellato lo schifo che c'è stato. Partiamo dall'inizio, allora Renate, vado io velocemente perché tu ci hai dato tutta una serie di documentazioni, andiamo con il documento 1, è stata fatta una legge, prima con decreto legge, poi trasformata in legge, eccolo qua, andiamo sotto direttamente alla parte che ci interessa, alla parte che ci interessa, dove ci spiega praticamente che la legge, questa è la legge del 1 aprile 2021, numero 44, ok? Numero 44, l'articolo 3, terterra, adempimento dell'obbligo vaccinale. L'adempimento dell'obbligo vaccinale è previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, cioè la legge parte dal presupposto che noi dobbiamo vaccinarci per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2. Andiamo avanti, velocemente, sempre la stessa legge, l'articolo 4, dice che praticamente gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione, ok? Per la prevenzione dell'infezione, dice la legge. Perché? Perché dice per evitare di infettare gli altri, visto che stai in un settore sanitario, tu ti devi vaccinare per non prenderti l'infezione e quindi per non trasferirla ai pazienti. Questo è scritto sulla legge. E quindi poi dopo che si estende, con l'articolo 4, quater, 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 c'è tutta sta roba qua, tutte queste puttanate, si estende la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Quindi per la prevenzione dell'infezione, di cui è l'articolo 3, terra, eccetera, eccetera, pure gli ultracinquantenni si devono fare sta puntura. Ma, ma, dove la troviamo noi la puntura per prevenire l'infezione, come prevede la legge? Esiste un farmaco che fa questo? La verità è che il farmaco non è mai esistito e ancora non esiste. Ma loro ti obbligavano a fare, con il trucco del consenso informato, se no non ti mando a lavorare, un altro farmaco che non c'entrava nulla. E che serviva a fare cosa? Dicono, loro, dicono a prevenire il Covid-19, come vediamo dal documento 4, che è la malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Quindi il cosiddetto vaccino, con una supercazzola di parole, parlando di immunizzazione, che non è che uno si immunizza, cioè l'immunizzazione è un'altra cosa, se vai a vedere sul vocabolario, sulla Treccani, va bene? Però loro ti dicono, per la prevenzione di Covid-19, non di SARS-CoV-2, come è scritto sulla legge. Quindi era la malattia causata dal virus. Non fermi il virus, fermi semmai la malattia causata dal virus. Quindi i contagi e le infezioni circolano uguali. Ok? Punto. E questo ce lo dice anche l'EMA, che un po' dopo Renate farà sul documento 5 un suo commento. E ce lo dice anche il documento 5B, come vediamo, perché che cosa dice il foglietto illustrativo? Andiamo allora a rivedere. Cosa dice? Dice che come Renate, che sarebbe il vaccino Pfizer, ma sono tutti uguali, sono tutti identici. È tutto scritto uguale. Moderna, questo, AstraZeneca, tutto uguale. È fotocopia uno dell'altro. Cambia solo il nome. Ok? È un vaccino utilizzato per la prevenzione di Covid-19. Malattia causata dal virus. Malattia causata dal virus. Non il virus. La malattia causata dal virus. Il virus circola liberamente. Va bene? Poi dicono, siccome come Renate non contiene il virus, non può trasmettere. E certo non può trasmettere Covid-19. La malattia, che è la malattia, si trasmette. È il virus che si trasmette. È un'altra super... Però qui è. Appunto. Tutto questo, tra l'altro, è stato di nuovo certificato dal LEMA, in una lettera che è stata mandata ai parlamentari. È stato certificato dal mondo intero e, da ultimo, anche dall'AIFA, come abbiamo già detto prima, che dice no, non esistono farmaci che prevengono all'infezione. Renate? Renate. Scusami, io ho voluto accelerare questa cosa. Eccolo qua. Dice no, non esistono farmaci. Non ci sono farmaci. Allo stato attuale non ci sono farmaci che prevengono all'infezione. Allora che cazzo... Scusate! Quelle leggi! Allora che ci avete fatto infilare nelle vene se non esistono e non sono mai esistite ad oggi quei farmaci? Perché non ci mandavate a lavorare quando non esisteva un farmaco? Oh ragazzi, io l'italiano lo so leggere, lo abbiamo letto sulla legge. Non abbiamo detto le frasi noi. Abbiamo letto la legge che diceva che dovevamo immunizzarci dal SARS-CoV-2 e che quindi dovevamo usare quei farmaci obbligatoriamente. Ma non c'erano quei farmaci. Non esistevano. Renate, scusami, so scemo io? Oppure l'italiano ancora un polomastico? No, la situazione è chiarissima. Infatti ci troviamo di fronte ad una clamorosa violazione del divieto di applicare in massa, perché nell'ambito di una enorme campagna cosiddetta vaccinale, di farmaci al di fuori della loro indicazione terapeutica. L'abbiamo vista prima, tu l'hai letta. Infatti nell'ambito dell'autorizzazione di questi cosiddetti vaccini Covid-19, la Commissione europea, sulla base del parere dell'EMA, cioè dell'autorità del farmaco europea, ha indicato in maniera chiarissima l'indicazione terapeutica, che non era quella della prevenzione dell'infezione con il virus e dunque della contagiosità delle persone con esso trattate, ma infatti, e io dico se mai, solo della malattia Covid-19. E qua va detto subito una cosa, anche questo era chiarissimo sin dall'inizio. Noi abbiamo in Italia una chiara normativa, che è il decreto legge numero 23 del 1998, l'articolo 3. Lo possiamo vedere, eccolo qua. Voi andate sotto, dove c'è. Il medico nel prescrivere una specialità medicinale si attiene alle indicazioni terapeutiche, cioè nel nostro caso non avrebbero mai potuto andare oltre al consiglio di questi prodotti se non per la prevenzione della malattia. e dice in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione di consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto per un'indicazione o una via di somministrazione diversa da quella autorizzata. Evidenzio in singoli casi il medico, non la politica in massa nell'ambito di una campagna vaccinale, tra l'altro ingannando la popolazione, usando una campagna desinformativa dove hanno raccontato giusto il contrario dell'indicazione terapeutica per la quale questi prodotti sono stati autorizzati. Questo, signori magistrati, va accertato. La violazione clamorosa dell'articolo 3 del decreto legge numero 23 del 1998. Anche questo lo avevo evidenziato sin dall'inizio e spero che forse adesso nell'ambito di questa commissione di inchiesta parlamentare che vedo a qualche membro di buona volontà che vuole portare alla luce la realtà che si riesca a portare all'evidenza questa nuda e cruda, collossale violazione dei più fondamentali principi del diritto del farmaco. Ed in questo però bisogna dire che ci sono i responsabili delle istituzioni che ovviamente devono conoscere questa normativa che evidentemente conoscevano l'indicazione terapeutica di questi cosiddetti vaccini Covid-19 che hanno quantomeno lasciato che si faccia fare questa propaganda mediatica senza precedenti in cui ogni giorno 24 ore su 24 i cittadini sono stati ingannati e che hanno lasciato a che prima il governo e poi il Parlamento con la ratifica abbiano persino imposto con un obbligo diretto per certe professioni o gli ultracinquantenni e poi con il Green Pass anche in diretto a tutti i cittadini sulla base della presunta ma inesistente efficacia indicazione terapeutica di questi cosiddetti vaccini della prevenzione dell'infezione verale e dunque della contagiosità delle persone con esso trattate. Allora la situazione è semplicissima semplicissima si può accettare neanche una giornata si fa in un'ora. È vero ma vedi Renate però quello che dicevamo prima e qui bisognerà farci una puntata apposita eh Renate su questa questione cioè i cittadini ma cosa fanno adesso? Come può un cittadino fidarsi di uno Stato che ha mentito? Perché qui la menzogna appare più grande di quello che cioè qui il danno è gigante c'è un'intera popolazione è una guerra vera e propria allora per evitare che poi se ne faccia una reale diciamo proprio fisica io credo che qui si debba fare non un passo indietro ma una chiarezza estrema cioè chiedere scusa ai cittadini italiani magari identificare i diretti responsabili di questa vicenda perché io capisco che anche nell'ambito della politica possa esserci stato qualcuno che è stato ingannato io ritengo che il Presidente della Repubblica sia stato ingannato perché non posso pensare diversamente non lo posso fare non soltanto perché la legge oggi ti obbliga il non vilipendio voglio dire no ma anche proprio perché credo che una persona di quell'età magari è stata ingannata sicuramente lo è stata come così anche molti altri poi c'è c'è anche presumibilmente ma è certo che c'è all'interno delle istituzioni della politica anche la mala fede da qualche parte ma dobbiamo partire dal concetto della buona fede perché personalità come il nostro Presidente o il Presidente del Consiglio non possono prendersi il rischio che un domani sta cosa esca fuori sapendo che è una puttanata così grave non ci posso credere cioè capito che adesso capisco il complottismo la rabbia la voglia di ma io non posso pensare che una persona di una certa età e con quel prestigio possa poi essere ricordato nel futuro delle generazioni insomma come non dovrebbe essere un Presidente di un Paese e quindi io faccio salva la buona fede ma la frase del gesto d'amore del fatto che tu lo facevi per gli altri che è un obbligo derivante dalle responsabilità civili una cazzata colossale allora cara Renate come possiamo risarcire cioè io io se faccio il conto dei danni anche economici escono fuori cifre con 6 zeri ma come chi me li ridà questi dannati chi ce li ridà poi se magari non riusciamo a pagare una tassa una cosa il bollo questo e quell'altro ci vengono a levare le cose ci mandano le cartelle ma allora qui c'è da fare veramente una pace adesso lasciamo stare quella che dice Dalvinia però una pace va fatta comunque con i cittadini dice sì ma poi salviamo anche gli evasori ma sti cazzi voglio dire perché se no la gente così non è giusto che le persone per bene adesso stiano in mezzo a una strada o abbiano dei gravi problemi gli è stato tolto lo stipendio i contributi umiliati hanno litigato famiglie divise separate per un qualcosa che era falso Renate questo è il punto giuridico che noi dovremmo affrontare magari la prossima volta con maggiore chiarezza anche per capire qual è la strada chiaro devo dire però due cose primo alle persone che sono state sospese in applicazione di questo infame obbligo scientificamente e anche dal punto di vista dell'indicazione terapeutica delle sostanze a disposizione assolutamente non fondato vanno pagato subito gli stipendi vanno pagati gli onere e bisogna anche pensare ad un risarcimento danni questo è l'onere e il dovere dell'attuale governo secondo a me arrivano in continuazione segnalazioni dei cittadini che mi mandano anche le rispettive intimazioni di pagamento che ancora adesso vengono notificate dall'agenzia delle entrate in riscursione la richiesta dei 100 euro sanzione per gli uva 50 che non si sono fatti inoculare di queste sostanze di questo è responsabile l'attuale amministrazione dunque prima che possiamo lontanamente pensare ad una pace Fabio io pretendo da questo governo che faccia i suoi compiti sì ma io per pace scusami scusami ti interrompo perché non vorrei essere scusami non vorrei essere frainteso ma io per pace questo intendo a Roma si dice aridateci risordi cioè io per questo la pace questo intendo per pace tornate indietro il danaro minimo di chiedere cioè di incassare sanzioni che sono evidentemente incostituzionali non abbiamo bisogno di adire una corte costituzionale che evidentemente poi adesso non mi vorrei esprimere sui motivi e tutt'altro che garante della costituzione in questo fondamentale settore per la vita dei cittadini lo ha dimostrato ahimè è un fatto ed è un grande grande dramma e abbiamo un governo che ha detto che appunto vorrebbe fare chiarezza vuole voltare pagina rispetto al precedente governo ai precedenti due governi e dunque che lo faccia e quantomeno inizi subito a bloccare l'esazione delle sanzioni incostituzionali e e metta cioè avvia una disposizione che che rifonda in modo tale che tutte le persone che sono rimaste sospese in modo del tutto evidentemente incostituzionale lo diciamo noi non abbiamo bisogno della corte costituzionale che ha si abolito la costituzione in questo campo che vengono dati i soldi che li spettano punto prima non possiamo pensare ad una ricocitura della coesione sociale impossibile dedicheremo una puntata totale a questo perché poi ripeto senza altri ospiti poi alla fine sforiamo di nuovo però questo è importante perché la parte giuridica è fondamentale vanno fatti i passi noi ci auguriamo che il governo prima ancora è che si si facciano dei passi quindi si investa tra l'altro fare passi giuridici noi l'abbiamo già spiegato anche con la vicenda Google che ci ha occupati è comunque una scocciatura ti avveleni il fegato il danaro che devi spendere le spese che hai quindi contribuisce questa storia ad aumentare ancora di più il livello di scontro e quindi il disagio sociale questo è un crimine quindi noi chiediamo al governo di fare chiarezza subito su queste vicende sulla richiesta di Renate di ridare lo stipendio a chi lo ha perso ingiustamente immediatamente e i contributi ovviamente tutto e chiedere anche scusa questo va fatto poi si troveranno i responsabili il problema è che dice ma non ci sono i soldi i soldi si trovano i soldi come li avete trovati per i banchi a rotelle come li avete trovati per tutte le puttanate che comprate per i caccia per i mig i cazzi non mi fate dire parola però li trovate anche per risarcire queste persone li trovate i soldi regalate meno armi agli altri che non c'è che per che non ci abbiamo neanche niente no evitiamo di 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 sanzionare gli altri per sanzionarci noi alla fine ok e trovate i soldi per ridare dignità dai cittadini ai quali l'avete tolta grazie a tutti